Chiedo una risposta breve perché so che ha altri impegni e non la vogliamo trattenere. Guardi il cartello 12. C'è un'ipotesi che si possa far ripartire il Paese per fasce. Un rientro prima dei 55 anni che ricominciano a lavorare, poi rientrano il mese dopo le persone di età maggiore, restano protette quelle over 65. Ha ragione, infatti, quando dice una vita è una vita quale che sia l'età, ma dalla potenza che ha il virus nei confronti delle diverse fasce si può iniziare a immaginare quello che sarà una vita normale del dopo Covid. Le chiedo una risposta secca. Voi avete scenari in cui prevedete un rientro a fasce della popolazione nella normalità? I nostri scienziati stanno studiando anche scenari con questa eventualità, ma non è questo il momento, questo è un altro momento. Di questo problema ci occuperemo, io spero, nel più breve tempo possibile, ma oggi non è dato sapere quando. Oggi la nostra priorità è continuare con tutte le energie che abbiamo sul contenimento più fermo possibile. Non siamo nella fase di uscita, siamo ancora nel mezzo di questa sfida e dobbiamo giocarla con tutte le energie che abbiamo, col massimo rigore e con l'appello pieno, convinto ai cittadini, a rispettare convintamente tutte le regole che arrivano dall'istituzione. Grazie, grazie Ministro.